Per favore comodarsi un po' distanti dai bandagliari, con i tavoli delle premiazioni, cominciamo a premiare le classifiche del Ciro della provincia della categoria allievi, il 53esimo Ciro della provincia della categoria allievi, classifica generale plastiche Cassano, premia Maria Pia Franchi e Daniela Franchi delle plastiche Cassano. Il primo classificato alla terza tappa è Masso Santiago con 30 punti, Bustese Ologa. Mettila, Mettila! Sergio, noi teniamo il tuo appenaio. Ecco la premiazione, segue le ordine del papà che di strada ne ha fatto, bravo! Complimenti e grazie per la participazione! Guarda qua, guarda qua! Masso Di Fiori che è offerto dall'SC Lonate Ceppino, Sartino Fiorito, 8 diritto! passiamo per il Gran Premo della Montagna il primo classificato è Spinoni Matteo della Boste del Toro previa Francesca Borri e Mara Bosara i titolari della Lava Resina Emergenza ma siete tutti una squadra fiori anche per loro offerti dall'SCro Anticeppino non mi direi che è freddo dai queste sono le premiazioni delle classifiche generali del Ciro della provincia poi andiamo avanti con la premiazione della gara passano la parola a Michael e poi la classifica per il primo anno degli allievi Scalponi nel cuore premia Giannoli Sergio il primo classificato è Toghetti Toghetti Thomas la comprese con 35 punti patto di fiori sempre nell'efficio Anticeppino faccio di fiori foto con Giannoli diritto poi foto con tutti e tre e quindi il tempo adesso venite avanti facciamo l'apporto diritto con tutti e tre complimenti ai tre ragazzi con Alfredo Trombella la vicepresidentessa della federazione di segreti di Varese Giannoli allora serve il vincitore d'Alessandro Nicolò della Legnanese per fare la foto insieme a loro però sul giornale andiamo anche noi dell'Efficio Anticeppino Mario Mario viene a fare la foto presidente quindi vincitore della gara più i tre in testa alle classifiche generali foto diritto sorridete bravissimi adesso passiamo alle premiazioni della gara iniziamo con i traguardi volanti primo giro prima classificato Ronchiette Riccardo società Bucet Dolonia un applauso secondo l'assificato da Alessandro Nicolò società U.S. Legnanese secondo passaggio primo classificato doppia Francesco società E.S. di Scuola Montiavai Cominale Reale un applauso bravo offerti da Scogliattolo secondo passaggio secondo passaggio secondo classificato da Alessandro Nicolò la città U.S. Legnanese un applauso terzo passaggio primo classificato 20 cabriere sui città di queste linee spuette l'applauso terzo passaggio secondo classificato sui città U.S. Legnanese quattro passaggio primo classificato Cassetti Simone Cassetti Cassetti Simone Cassetti Simone c'è di Monocco bravo 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 Quarto passaggio, secondo classificato, and the runner-up of the flying finish line is Lauta Maxima. Maxima, della Galbiati, Lauta, Maxima, ragazzi dell'Ucraina, Maxima, dalla Galbiati non ci sono? Eccoli là, Maxima. La volta volante, Maxima. E' un premio. E' un premio spetale, o' carzzeche privati, stilo per tutte due. E' un premio spetale, o' carzzeche privati, stilo per tutte due. Un applauso. Può venire anche il numero tre. Un applauso. Un applauso. Thank you. Il premio della montagna, premia la moglie di Gormocca, Alessandra, primo aglio, terzo classificato Brambilla Gabriele S.C. Procorinese, un applauso. Secondo classificato Fredel Immanuel, società Medano Solano, primo classificato Finori Matteo della Bustese Ologna, applauso. Ragazzi, però mettetevi in centro, mettetevi un po' in centro, c'è una volta a sinistra, ok? Grazie. 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 Maxime, Maxime Liou, 10, 14, ok? Ok, wait a moment, wait a moment, ok? Applauso! Tredicemio classificato, Cirlino Bryan, equip corpettese. Applauso! Dondicesimo classificato, Noretti Sommar, equip corpettese, Olonia. Applauso! 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 Thank you very much! Tredicemio classificato, Parmigiani Diego, putteggia Olonia SP! Applauso! 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 Questa è la P 넛! Questa è la medaglia! Parmigiani! PM circuito! Praoooo Diego! Questa è la riforma... Nono, classificato, Policante Alberto, gesto per Alvino SD. Applauso. Ottavo, classificato, doppia Francesco, SD Spola Montambai, Giovinaria Reale. Applausi. Applausi. Settimo, classificato, Giacentini Leo, Sassano Pagliaro, scena 192. Sesto, classificato, Predetti Manuel, Fedaro Storano. Quinto, classificato, Giacci Samuele, Fedaro Storano. Applausi. 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 Quarto, classificato, Pastelli Matteo, Castano Magnano. Applausi. 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 Terzo, classificato, Marini Samuele. ere Sì, arri Un applauso. Primo classificato da Alessandro Nicolò. Un applauso. Ferrario, Cubiana, Alessandra, con il vice sindaco. Premiamo. Guarda qua. Adesso per la squadra del primo classificato chiamiamo Cubiana, Ferrario, Alessandro. Vedetevi lì davanti che diamo anche alla società della Legnanese il trofeo del primo classificato. Adesso usciamo anche con il premio di battaglia, la bicicletta che viene data al primo classificato. Ragazzi, l'anno prossimo più numerosi. Ecco, il premio è Mario Battaglia, anche in memoria della mamma. La ricordiamo sempre partecipi alla nostra manifestazione. Un voto di gruppo. Grazie ragazzi. Grazie ancora e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.